Siamo in compagnia delle vincitrici di reazione a catena, le tre agropolesi, che hanno portato in auge il nome di Agropoli e in tasca un po' di soldi. Allora iniziamo col raccontare ai telespettatori di Cilento Channel come è stata questa esperienza e come è iniziata. Allora, salve a tutti, io sono Jessica, loro sono i miei due compagni, noi ci chiamiamo le Zumba Bà e rappresentiamo Agropoli e abbiamo scelto questo nome perché abbiamo questo sport in comune che ci accomuna che è la Zumba. L'idea è stata principalmente di Martina un anno fa di iscriverci a questo gioco e quindi all'inizio infatti è partito proprio come un gioco poi quest'anno ci hanno chiamato, siamo state fortunate, nel giro di una settimana si è svolto tutto ed è stata un'esperienza bellissima nel senso che sono stati tutti molto carini con noi a partire dalla costumista, il parrucchiere, Amadeus in primo che è simpaticissimo e siamo state molto contente anche perché nessuno si aspettava che noi vincessimo invece ci è andato anche molto bene abbiamo vinto. Un'esperienza nuova per voi tre, arrivare in Rai e vivere quell'aria che comunque vista da casa fa un effetto diverso. Sì certo perché è tutta un'altra emozione quando ci si trova lì, è tutta un'altra cosa sicuramente. Comunque lì c'è l'emozione anche del pubblico e sicuramente poi anche dei telespettatori. Da un punto di vista proprio più pratico trovare quelle parole, riuscire a chiudere le catene, ecco è stato facile, difficile, le parole vi venivano subito? Allora diciamo che questo è un quiz che noi guardiamo da tanto tempo, quindi non c'è stato nemmeno bisogno di allenarci più di tanto perché sono anni che vediamo questo quiz, però l'intesa c'era, penso che si sia visto. È stata un'esperienza bellissima e ci ha fatto capire quanto siamo unite in effetti e questo è il valore dell'amicizia e la cosa più importante. Ci siamo divertite, è stato bellissimo. La svolta nell'individuare la parola finale, cosa vi ha fatto suggerire ed individuare che era proprio quella? Ecco questo è un tasso dolente perché Martina l'aveva trovata subito, si è girata e mi ha detto a me la prima cosa che mi viene in mente è vizio e io poi ho detto vizio e se poi è viziato, abbiamo fatto un po' di ragionamenti. Certo è che io dico sempre che uno deve rischiare nella vita, però trovarsi poi con 106.000 euro e poter rischiare di perdere tutto siamo andate sul sicuro, abbiamo chiesto una conferma del terzo indizio. E perché, diciamo, cosa vi ha fatto scattare la molla che fosse quella? Cioè il ragionamento che avete fatto con la parola precedente? Allora più che altro è stata Martina, sì, è stata Martina. Martina, perché il collegamento è venuto proprio così? Perché allora il primo indizio era forma, ho visto la lettera iniziale V, la lettera finale O come se l'avessi letta la parola, mi è venuto così subito e quindi poi consultandomi con loro ho capito che era meglio non rischiare, anche se ero al 90% sicura, però siamo in tre e giusto che sia così. Nel fare un saluto finale, non so, guardando anche in telecamera, tanti agropolesi che vi hanno seguito e che vi hanno anche sostenuto nella puntata, poi nella seconda puntata, quindi non so, un messaggio che vorreste lanciare a tutti coloro che vedranno questo servizio. Allora sicuramente l'appoggio di tutti gli agropolesi è stato veramente molto importante, ma non soltanto degli agropolesi, perché comunque stando lì nello studio ne abbiamo uscito l'appoggio e il calore di tutti i campani, veramente. È vero, ringrazio veramente tutti gli agropolesi, ma non solo, perché proprio per questo fatto che ci accomuna la Zumba, ci hanno seguito anche da altre parti, come Marina di Camerota, mio fratello che si trova in Emilia Romagna, quindi ci hanno seguito di là, diciamo che si è movimentato un bel po' d'Italia per seguirci. Non solo l'Italia, anche all'estero, abbiamo amici all'estero, in Spagna, in America, ci hanno seguito veramente ovunque, nonostante le critiche, comunque quelle ci sono sempre. Ringraziamo per l'appoggio di tutti, veramente ci hanno fatto da supporto e questo è stato veramente bello, molto bello.